Grazie a tutti. Il processo rinviato a giudizio Cosimo Calò, reo confesso del duplice omicidio, prima udienza il 15 aprile, processo sempre in corte d'assise per Cosimo Calò, 85 anni, originario di Carovigno per stabilire se è vero che fu lui ad ammazzare a colpi di fucile il fratello Antonio e la cognata Caterina Martucci la sera dell'1 marzo dell'anno scorso nella loro casa del borgo rurale di Serranova. Lo ha stabilito ieri il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, Simone Orazio, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Francesco Carluccio e rigettando la richiesta dell'avvocato difensore Antonio Passaro di sottoporre l'imputato a perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto e sulla capacità di stare in giudizio. Ci sarà quindi il processo per stabilire la sussistenza dell'accusa di omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione della circostanza che una delle vittime fosse il fratello. Qui appunto le foto, il presunto omicida Cosimo Calò e poi appunto le vittime, il fratello Antonio Calò e la di lui moglie Caterina Martucci uccisi nella villetta l'anno scorso in provincia di Brindisi. Una vicenda cruenta di cui parleremo poi nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Questo è l'articolo nuovo quotidiano di Erasmo Marinazzo. Andiamo avanti con il telegiornale ancora cronaca. Torniamo nel Foggiano a Cerignola. Una rapina, peraltro armata, è un arresto da parte dei carabinieri. Il servizio di Antonella Davola. Allertati da una chiamata al 112 che avvisava di una rapina a mano armata in corso all'interno di un supermercato, i carabinieri della compagnia di Cerignola, impegnati nell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio, mirati a contrastare l'escalation di furti e rapine, danni di esercizi commerciali e rivendite della cittadina ofantina, hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne del posto. I militari dell'arma, prontamente intervenuti grazie alla presenza di pattuglie e gen servizio nelle vicinanze per presidiare le principali arterie stradali e le vie di collegamento, sono riusciti a individuare un'autovettura corrispondente a quella utilizzata dai rapinatori per darsi alla fuga dopo la consumazione del reato. A margine di un breve inseguimento per le vie della città, i carabinieri sono riusciti a bloccare l'autista del veicolo, che dopo aver fermato il mezzo in una strada senza uscita, aveva tentato la fuga a piedi unitamente a un complice, che era invece riuscito a far perdere le proprie tracce. Nel corso delle perquisizioni personali e veicolari, i militari hanno rinvenuto un passamontagna o un paio di guanti lattici o una pistola clandestina utilizzati, secondo l'ipotesi degli inquirenti, nel corso dell'azione delittuosa. Recuperate anche 930 euro in contanti, che costituirebbero buona parte della refurtiva asportata dall'indagato, per il quale, dopo essere stato arrestato, si sono aperte le porte del carcere di Foggia. Voltiamo pagina, nuove iniziative, nuove proteste degli agricoltori pugliesi nelle scorse ore a Bari, sotto la sede del Consiglio regionale di Via Gentile. Dalle parole ai fatti, e questa volta gli agricoltori sono più numerosi e convinti. Niente trattori, ma dopo le mobilitazioni dei giorni scorsi, a Bari nuovi cortei di protesta, che questa volta vedono protagonista la sede del Consiglio regionale pugliese, in Via Gentile. Bloccato il traffico, si protesta per denunciare una situazione che non pare cambiare. Dito puntato contro consorzi di bonifica, le politiche PAC, e la denuncia di una concorrenza sleale da parte di paesi extraeuropei e che accomuna tutti gli addetti ai lavori del settore. Noi manifestiamo contro il tributo 630, per la prassi del tributo 630, detta una legge infame, perché siamo costretti a pagare, come liberi cittadini, onesti cittadini, ma dall'altra parte la Regione, o il Consorzio di bonifica, né ci puliscono i canali, ma per giunta per chi non paga a tanti pensionati e a tante persone che prendono anche gli stipendi, vengono pignorati i conti, vengono pignorati i trattori, e così non valla. Questo non andiamo nella direzione della democrazia italiana. Non c'è nessuno che riesce ad ascoltare le nostre domande. Sono tutti nascosti dietro la schivania e guarda caso ogni volta che arriviamo qua ho un consigliere regionale, o Emiliano chiesto sia, svaniscono, pensano all'elva, pensano alle altre cose, ma l'agricoltura non la pensa nessuno, non esiste più soltanto l'elva o altri lavori, esiste anche l'agricoltura, che l'agricoltura è quella che fa andare avanti tutta l'Italia alla fine. Torniamo a Foggia, dove torna a riunirsi il Consiglio Comunale e tanti punti all'ordine del giorno, tra cui anche la definizione delle linee programmatiche dell'amministrazione. A quasi due mesi dall'ultima convocazione torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Foggia. Nelle scorse ore la massima assise si è riunita per discutere numerosi punti all'ordine del giorno, tra questi la presunta incompatibilità del consigliere Pontone, l'adesione del Comune di Foggia all'Associazione Avviso Pubblico Codice Etico per la Buona Politica, e poi ancora interrogazioni, interpellanze, il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio, una mozione a favore degli agricoltori che stanno protestando, la proposta di cittadinanza onoraria a Giulia Nassage, ma soprattutto la presentazione delle linee programmatiche dell'amministrazione. I nostri primi obiettivi sono immateriali, sottolinea la sindaca Maria Ide Piscopo. Ci sono anche le istanze dei cittadini che abbiamo raccolto in questi giorni di impegno e di presentazione alle cittadine e ai cittadini. I nostri primi obiettivi sono immateriali, la legalità, la trasparenza, l'anticorruzione, la probità, la legalità delle nostre azioni. Infatti oggi c'è all'ordine del giorno ed è anche un punto programmatico l'adesione alla carta di avviso pubblico che è un codice deontologico molto stringente a cui hanno aderito tutti i nostri consiglieri e tutti i nostri assessori. Quindi legalità, cultura, lavori pubblici, sostenibilità, ambiente e anche un domani. C'è una pagina del nostro programma che è dedicata a un domani migliore. Ovviamente immaginiamo la rigenerazione urbana, immaginiamo anche un cambio di paradigma reputazionale per la nostra bellissima città. Torniamo a parlare delle elezioni regionali in Sardegna. Andando all'interno delle pagine del quotidiano la stampa, la premier, la sconfitta e l'autoironia sull'alcol. Impareremo la lezione. Meloni alla stampa estera. E' quaresima. Non posso affogare i dispiaceri nel bere. La telefonata a Todde per congratularsi della vittoria in Sardegna. Truzzo, colpa mia. Il caso. Il colpo è stato forte. La vittoria sorpresa di Alessandra Todde sostenuta da PD e Movimento 5 Stelle lascia tramortito il centro-destra. Al punto che, almeno in pubblico, i leader evitano di scaricarsi addosso accuse reciproche, perché tutti capiscono che il momento è dedicato i sospetti di Fratelli d'Italia su possibili vendette leghiste tramite il voto disgiunto restano affidate ai rumors, come pure la tentazione di Matteo Salvini di rinfacciare a Giorgia Meloni la scelta di imporre Paolo Truzzo al posto di Cristian Solinas. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia scelgono di dare un segnale di unità, anche perché tra meno di due settimane si vota anche in Abruzzo. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani fanno uscire una nota congiunta per ostentare compattezza. È una sconfitta sulla quale ragioneremo insieme per valutare i possibili errori commessi. Continueremo a lavorare imparando dalle nostre sconfitte come dalle nostre vittorie. Andiamo avanti, scorriamo l'articolo. Chiunque se ne faccia una ragione, questo governo, ha detto Antonio Tajani, andrà avanti e la collaborazione tra le forze di governo è più che positiva. non si è vinto, ne terremo conto, ma questo non ha alcun effetto sulla tenuta del governo. Giorgia Meloni, che su X aveva scritto di aver chiamato Todde per congratularsi e ringraziato Truzzo, perché le sconfitte sono sempre un dispiacere, ma anche un'opportunità per riflettere e migliorarsi. Impareremo anche da questo. Prova poi a sdrammatizzare nell'incontro con la stampa estera mi invitate nel giorno in cui perdo le elezioni in Sardegna, dice il sorridendo, e sto pure facendo la quaresima e non posso neanche affogare i miei dispiaceri nell'alcol. L'arma con gli stranieri e l'autoironia. Mi avete spiegato che dopo due giorni che era venuto a Mario Draghi avete portato una sfiga senza precedenti, quindi farò del mio meglio per allontanarmi da questa sala il primo possibile per cercare di restare un po' a governare questa nazione. Voleva fare la cantante, dice Meloni, ma sono sotonata. Volevo giocare con la nazionale di Palavolo, ma sono nana. Volevo conoscere Michael Jackson, ma è morto troppo presto. Così, la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ai giornalisti e ai colleghi della stampa estera. Andiamo avanti con il Tg. Siamo a Barletta, dove è stato approvato il bilancio di previsione, resta però il malumore dell'opposizione. Tavolo tecnico del centro-sinistra per puntare l'attenzione sui temi maggiormente discussi, tra cui le politiche di sostegno alle fasce più deboli, con un occhio di riguardo anche alla tutela dell'ambiente. L'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Barletta non trova il benestare dell'opposizione. Primo tavolo di centro-sinistra a Palazzo di Città per puntare l'attenzione su quelle che vengono considerate delle lacune nel documento a cui l'amministrazione Cannito ha dato l'ok. Abbiamo deciso di denunciare pubblicamente quello che è stato l'atteggiamento della maggioranza, cioè un atteggiamento di chiusura rispetto alle proposte migliorative avanzate dal Partito Democratico relativamente all'intero provvedimento. Hanno sostanzialmente abolito il fondo per il fitto casa. È stato abolito il reddito di cittadinanza. Anche per quanto riguarda il Comune di Barletta vi è stata la presentazione di 818 domande non ancora evase. Avevamo immaginato ulteriori fondi per quanto riguarda l'ambiente. Assenti coalizione civica con e Movimento 5 Stelle l'opposizione lamenta l'allineamento dell'amministrazione comunale alle politiche del centro-destra nazionale in particolare sugli emendamenti respinti e sulle iniziative inserite nel bilancio polemiche anche sullo spazio riservato alle tematiche ambientali. Qui abbiamo una maggioranza che è alquanto schizofrenica che ha decisamente saltato a pie pari ogni forma di emendamento. Emendamenti che riguardavano guarda caso fasce sociali deboli e la materia ambientale. Su quei punti possiamo iniziare a lavorare per cercare a livello locale di cambiare le cose dell'amministrazione ma anche a livello nazionale di sconfiggere la destra una destra xenofoba e fascista che comunque visti anche gli ultimi fatti degli ultimi giorni sta prendendo sempre più piede. Parliamo ora di turismo o meglio di sviluppo turistico per la regione Puglia la domanda è come fare come sviluppare trasporti ed offerte ricettive se ne è parlato nel corso di Bai Puglia importante evento dedicato proprio al turismo di scena alla Fiera del Levante di Bari Individuare nuove strategie di sviluppo territoriale turistico per la Puglia la tre giorni del Bai Puglia in collaborazione con BTM Italia entra nel vivo in Fiera del Levante a Bari nuove sedute si fanno largo per trovare prospettive su più fronti che variano dall'offerta turistica al potenziamento dei trasporti c'è la necessità ormai ribadita da tutti di ragionare in termini di organizzazione turistica territoriale questo porterà con sé un percorso di condivisione sia con i territori ma anche con gli operatori privati di come andare a federare tutto sommato le destinazioni interne come ragionare in termini di DMO a come a modernare anche le organizzazioni presenti penso inevitabilmente ai distretti urbani del commercio si sta facendo un lavoro di confronto e di sintesi su questo tema la stessa Fiera del Levante può essere un perno attrattivo per investitori e buyer in questo contesto si lavora per un salto di qualità stiamo lavorando invece per l'anno prossimo per essere partner strategici a differenza del passato però da quello che mi stanno dicendo da quello che mi stanno raccontando c'è un'attenzione importante e soprattutto i buyer di riferimento comunque vedono il nostro territorio come un territorio dove promuovere la propria attività e soprattutto dove portare sempre più attrattività torniamo a parlare della visita di ieri a Taranto del ministro alle imprese del Medinità di Adolfo Urso insieme al governatore di Puglia Michele Emiliano prima l'abbiamo ascoltati riguardo la vicenda le vicende che ruotano attorno al caso il governatore e il ministro erano anche per il treno del ricordo che ha concluso il suo viaggio proprio nella stazione del capoluogo Ionico un viaggio nel segno del ricordo e del dolore che deve contribuire e ricomporre una memoria collettiva e condivisa così il ministro Adolfo Urso sul treno del ricordo che fa tappa al primo binario a Taranto il treno che percorre la storia in una città che per troppo tempo si è divisa le valigie di cartone mobili e utensili mostrano quanta dignità e appartenuta a chi fu costretto a lasciare la propria casa filmati d'epoca fotografie e la voce fuori campo raccontano la storia di un esule si torna indietro nel tempo il respiro si ferma per qualche istante gli occhi degli studenti diventano seri a bordo di quel treno i gradini ti riportano giù e una boccata d'aria ricorda che non si deve dimenticare un viaggio nel segno del ricordo e del dolore che deve contribuire a ricomporre in una memoria comune collettiva condivisa quello che è stato quella tragedia di quegli profughi che in quel periodo non furono capiti da molti dei nostri italiani ma che oggi anche grazie al ricordo fatto negli ultimi vent'anni e a questo treno che percorre la storia può essere finalmente condivisa da tutti nessuna differenza politica dinanzi al ricordo solo uomini che ricordano altri uomini all'interno di vagoni che raccontano una tremenda pagina di storia le vittime delle foibe e dell'esodo Giuliano Dalmaton la cosa che istintivamente ci è venuta di fare a me al ministro è quella di abbracciarci io sono un ex giovane della sinistra lui è un ex giovane della destra e di fronte allo scempio dell'umanità che abbiamo potuto osservare ovviamente abbiamo avuto la stessa reazione cioè il desiderio di superare lasciando agli storici il giudizio ma cercando di evitare che situazioni del genere possano verificarsi nuovamente andiamo avanti una manduriana vittima di violenza domestica Gianna nome di fantasia per tutelarla ha deciso di raccontare la sua storia ai nostri microfoni per lanciare un appello abbiate la forza ha detto di parlare abbiate la forza di denunciare mi diceva che voleva uccidermi farmi a pezzettini mettermi in un bustone nero e bruciarmi minacce del tipo ti devo uccidere prima o poi ti faccio fuori mi ripete sempre le stesse parole sempre che vuole farmi fuori sono queste le terribili minacce che Gianna il nome di fantasia che abbiamo scelto per tutelare la donna di Manduria ha denunciato un anno fa costringendola a lasciare il suo paese a rifugiarsi in un altro comune limitrofo con i suoi figli calci pugni anche durante la gravidanza la giovane ha deciso con grande coraggio di raccontarci in una caffetteria sopprusi ricevuti e denunciati anche una seconda volta da quell'uomo dieci anni più grandi di lei dopo la rottura della loro relazione durata otto anni terminata tre anni fa e dalla quale sono nati i due bambini non riesco più neanche a dormire la notte quando cammino a piedi mi volto perché ho paura la sua storia è purtroppo simile a quella di molte altre donne vittime di violenza domestica con alla base gelosie ripicche spesso dipendenze da droga e alcol e l'incapacità dell'uomo di accettare la fine della relazione violenze altalenanti ma che sarebbero state costanti nel tempo tanto da terrorizzare la donna poi la scelta di denunciare stavolta pubblicamente ai nostri microfoni bisogna parlare noi donne non dobbiamo più essere trattate in questa maniera maltrattate e subire bisogna vedere per forza il sangue per far sì che si capisca quanto stiamo soffrendo quello che subiamo trovate la forza che avete dentro e uscite uscitene da questa situazione perché come me che io adesso sono qui a raccontarlo potrebbe succedere che un domani non ci siamo più io prego tutte le sere prego che i miei figli stiano bene e soprattutto prego di vivere e non subire più nulla ecco questo vorrei tanto sarebbe il mio sogno un desiderio che in realtà è un diritto ostacolato ancora una volta da un'altra aggressione da un presunto conoscente dell'ex compagno ci ha riferito la donna che presenta l'ennesima denuncia la terza per tutelarsi dice sebbene non si senta più al sicuro ben trovati sempre in diretta con l'informazione in formato interregionale di Antenna Sud andiamo avanti con i nostri servizi torniamo a Bari con la CGL per parlare di precarietà nel servizio di Antonio Bucci 280.000 posti di lavoro in più nel 2023 ce lo certifica Lampal Servizi ma quali posti di lavoro? In un anno nell'area metropolitana hanno trovato lavoro in 280.000 ma soltanto l'8% di loro può contare su un contratto a tempo indeterminato e per oltre 150.000 lavoratori il rapporto si è interrotto nell'arco di pochi mesi la CGL torna ad accendere i riflettori sulla precarietà penso alla questione di genere che ci mostrerà come appunto si è più precari se si è donna oppure rispetto alle questioni che riguardano l'età perché ci mostreranno come appunto sono più in difficoltà i giovani quelli che invece dovrebbero costruirsi un futuro una prospettiva pensare di poter mettere su famiglia di acquistare una casa oppure ancora gli over 55 anni un ciclo di incontri di podcast dalle disuguaglianze sociali all'occupazione giovanile visto che soltanto il 37% di chi firma un indeterminato è donna e che sotto schiaffo restano over 55 under 24 e neppure la pubblica amministrazione è più interno all'otto nonostante offra ancora più garanzie degli altri settori il precariato non fa bene né ai lavoratori né alle aziende perché avere lavoratori che non sono stabili non è una cosa positiva anche se viviamo in momenti di grandissima instabilità e di grandissima evoluzione non abbiamo un periodo davanti a noi di certezze economiche siamo veramente in un periodo di grande accelerazione ma la flessibilità non è sempre caratteristica di positività tutto ciò che è precario non consente una costruzione del futuro non consente di guardare avanti con serenità e quindi di precario c'è tanto anche all'interno dei comuni precari sono anche i servizi che attualmente non vengono garantiti o non possono essere garantiti come vorremmo a tutti i cittadini andiamo avanti perché è stato presentato a Barletta il progetto esecutivo che prevede la costruzione di una fermata ferroviaria presso l'ospedale di Miccoli lo snodo sarà collocato sulla linea Barletta-Spinazzola lavori del costo di 22 milioni di euro è da concludere entro settembre 2026 la tratta ferroviaria Barletta-Spinazzola avrà due nuove fermate ospedale di Miccoli e Cagne della Battaglia presentato a Palazzo di Città il progetto esecutivo che coinvolgerà l'amministrazione comunale la Regione Puglia e Rete Ferroviaria Italiana per implementare uno snodo cruciale tra l'entroterra della BAT e uno dei suoi tre capoluoghi devo dire che questo è un grande risultato una collaborazione tra Regione Puglia ed RFI ma anche con il territorio di Barletta finalmente sarà realizzata questa fermata così chiamata Barletta-Ospedale così utile al territorio ma non sarà solo la realizzazione della fermata come ben sapete perché sarà collegata appunto al resto della città con una rotatoria con un parcheggio di 140 posti oltre a un parcheggio per bus navetta un progetto che parte dal 2015 durante l'amministrazione Cascella e che trova la sua attuazione definitiva nove anni più tardi si partirà dalla fermata di Barletta-Ospedale che avrà un costo di 22 milioni di euro e sarà attiva dal primo settembre 2026 siamo arrivati alla conclusione adesso si tratta soltanto di capire quali saranno i tempi certi per realizzare queste opere e annunciarle ai cittadini che ne potranno usufruire agevolmente torniamo all'interno del nuovo quotidiano di Brindisi guardate questa foto che è fondamentalmente un fake o se si preferisce per l'appunto una ricostruzione una rielaborazione fotografica realizzata per nuovo quotidiano da Max Frigione ovvero come vedete due colonne sulla scalinata Virginio perché è Virginio perché c'era una proposta ovvero ricostruire una delle colonne di Brindisi quella crollata oggi c'è solo la base la proposta arriva dal consigliere Roberto Quarta che chiede un tavolo di confronto con esperti del settore per verificare la possibilità di puntare alla riqualificazione dello stato originario del monumento generando così occasioni di sviluppo turistico e culturale ricostruire quella crollata questa è la proposta per le colonne romane periodicamente nel dibattito pubblico brindisino torna ad attualità questa discussione sulla seconda colonna romana crollata nel 1528 e poi donata alla città di Lecce 132 anni dopo stavolta però l'idea non è quella di chiederne la restituzione ai cugini leccesi a lanciarla nelle scorse è arrestato il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Roberto Quarta che parla di idea di profondo significato storico e culturale per la nostra amata città una proposta che non solo punta a ricucire una sottrazione storica ma anche ad avviare un processo di rinascita culturale e simbolica per la nostra città stavolta dunque come detto non si parla di restituzione ma di ricostruzione qui Roberto Quarta consigliere comunale prima di passare alla vera e propria ricostruzione della colonna romana crollata la proposta prevede dell'organizzazione di convegni e confronti con specialisti del settore per valutare tutte le possibili implicazioni non solo economiche ma anche culturali per quanto riguarda questa iniziativa di recupero ovvero ricostruire appunto la colonna crollata è sicuramente come dire una proposta che farà ovviamente discutere vedremo poi se qualcuno sposerà la proposta del consigliere comunale Roberto Quarta andiamo avanti parliamo di innovazione parliamo di formazione questi punti cardine della nuova edizione di Enoli Expo rassegna dedicata a olio e vino di scena in Fiera dell'Evante fino al 9 marzo dal 7 al 9 marzo tra le novità tante il settore birtech collaboratori analisi e tutti ma proprio tutti i segreti della birra ce ne parla Antonio Bucci innovazione e formazione sono gli elementi caratterizzanti di questa sesta edizione di Enoli Expo la terza che si tiene a Bari la prima che ha il riconoscimento di Fiera Internazionale innovazione nei 18 mila metri quadrati espositivi più 15% rispetto alla passata edizione dove saranno presenti i principali fornitori di macchinari attrezzature prodotti e servizi per le due filiere dell'olio e del vino formazione con gli oltre 30 appuntamenti di aggiornamento professionale sono i punti cardine di Enoli Expo rassegna dedicata all'olivecultura di scena negli spazi della Fiera dell'Evante del capoluogo tecnologie macchinari e servizi per la produzione di olio d'oliva e vino l'appuntamento è dal 7 al 9 marzo prossimi per operatori del settore appassionati tra le novità anche il nuovo settore birtech collaboratori analisi e segreti della birra a pochi chilometri di distanza in compenso ci sono i trattori e la protesta del comparto che non si placa io ho detto che molti di quegli argomenti personalmente come giunta regionale li abbiamo posti al vecchio governo e al nuovo con tre note ufficiali io non mi appassiono al tema dell'IRPEF che per me è secondario l'ho detto e specificato in maniera molto chiara in netta c'è un tema quello sul gasolio agricolo quello sulle accise e soprattutto quello del sistema creditizio la ricontrattualizzazione dei mutui le garanzie le fede di ossioni di cui nessuno parla io sono molto molto preoccupato parliamo ora di un progetto no parliamo ora sì di un progetto culturale che ha visto come protagonista Gerardo Colombo l'ex magistrato che ha incontrato 500 studenti per dialogare con l'ex presidente del tribunale di Lecce su tematiche ambientali e su un futuro sempre più verde sono oltre 500 gli studenti frequentanti le classi della scuola secondaria di primo e secondo grado di quattro differenti istituti scolastici salentini che hanno incontrato l'ex magistrato Gerardo Colombo in occasione di un tour per la presentazione del suo ultimo libro dal titolo chi è stato l'autore accompagnato da Roberto Tanisi fino a poco tempo fa presidente del tribunale di Lecce ha fatto tappa dall'Iste Casarano Nardò e Racale dove nel corso di quattro differenti incontri ha offerto una prospettiva appassionante sulle tematiche ambientali e sul futuro verde arricchiendo l'esperienza degli studenti con approfondimenti e riflessioni stimolanti sono quasi due decenni che lavoro su questi temi mi sono dimesso dalla magistratura in anticipo proprio per lavorare con i ragazzi perché le regole si osservano si osservano soltanto se si condividono se si arriva a capirle non si osservano se si è obbligati a farlo basta che il controllore si distraga un po' che si trasgrediscono e allora è necessario ragionare insieme dialogare approfondire è quello che stiamo facendo l'iniziativa si inserisce all'interno di culture il progetto che punta a unire l'educazione ambientale alla promozione della lettura ponendosi come esempio virtuoso di sinergia tra educazione ambientale e culturale c'è stata una riflessione fatta in classe con i ragazzi e con i docenti si è riflettuto moltissimo sulla raccolta RAE quindi la raccolta di rifiuti particolari che sono stati poi portati qui a scuola dai ragazzi e in cambio hanno donato altri libri quindi questo è un messaggio bellissimo meraviglioso che noi abbiamo colto subito in più hanno donato anche degli alberi d'olivo che noi abbiamo piantato nel nostro orto prima di chiudere andiamo sul nostro sito antennasud.com con il presidente della regione Basilicata Bardi che esprime la viva soddisfazione mia dal governo regionale per la notizia della liberazione dei tre cittadini di origini Lucane Rocco Langone la moglie Maria Donata Caivano il figlio Giovanni Langone che erano stati rapiti dai miliziani giadisti il 19 maggio 2022 a Cutiala nel Mali dove si erano stabiliti da diversi anni ringrazio dice Bardi il ministro Antonio Tagliani e le istituzioni tutte dall'Aise allo stesso ministero degli affari esteri e alla cooperazione internazionale che in questi mesi hanno seguito con grande impegno il caso della famiglia Lucana originaria di Ruoti attesa per oggi a Roma e alla quale inviamo un affettuoso saluto a nome della comunità regionale noi così rientriamo in studio lo facciamo per ringraziare Michele Marchitelli che ha curato la parte tecnica di questa diretta e per ringraziare voi gentili telespettatori e gentili telespettatrici per la cortese attenzione il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta per le 13 e 15 con l'edizione interregionale del telegiornale di Antena Sud a tutti voi un buon proseguimento di giornata rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antena Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo di Puglia evangelizzare why qui Grazie a tutti.